Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti nel mio canale, Sam the Stoic. Oggi vorrei fare la recensione del film, Red One, che in italiano è stato chiamato, Uno Rosso. Quindi, cominciamo da qui, il titolo scelto in italiano è davvero brutto. In inglese, The Red One sta a significare, Quello Rosso. Così poteva essere tradotto in italiano, Quello Rosso, oppure, Il Rosso. Ecco, Il Rosso sarebbe stato il titolo e la traduzione perfetta allo stesso tempo. Non, Uno Rosso, che in italiano non ti fa nemmeno pensare a Babbo Natale. Detto ciò, andiamo alla review del film vera e propria. Devo ancora imparare a distinguere cos'è uno spoiler e cosa non lo è, per cui nel dubbio diciamo che farò spoiler fin da subito. Partiamo fin d'ora dicendo che il film mi è piaciuto. L'ho trovato davvero simpatico, mi ha fatto ridere, e, udite udite, alla fine mi ha fatto anche piangere. Per cui non si può chiedere di più da un film di Natale. Gli attori sono eccezionali, mi sorprende come The Rock, oltre ad avere una portanza incredibile con la sua corporatura muscolosa e la sua testa scintillante, sia anche un ottimo attore. Una cosa che mi ha colpito di questo film è che, la strega cattiva vuole punire i bimbi cattivi. Di solito, la strega, o comunque l'antagonista, aveva come obiettivo di fare del male a prescindere, anzi, la sua azione era indirizzata ai buoni. C'era, in passato, una netta distinzione tra buono e cattivo. Ora, invece, vediamo che la strega, appunto, vuole punire i cattivi, o perlomeno, quelli che secondo lei sono i cattivi, che però lo sono in parte anche per noi. Per farmi capire meglio, la strega vuole punire i bambini che sono finiti nella lista dei bimbi cattivi, che hanno combinato Marachelle, che hanno detto bugie, che hanno fatto azioni di cui c'è poco da andare fieri. Ma lei vuole punire non solo i bambini, ma tutti coloro che sono stati in questa lista. Quindi, come fa notare uno degli attori buoni, questo significherebbe punire più o meno tutta l'umanità. Quindi, alla fine, l'azione della strega è diretta a tutta l'umanità, però parte da questo concetto che sembra quasi positivo, punire i cattivi. Quindi, mi sembra molto importante sottolineare questo cambio di prospettiva che vediamo nel cattivo odierno. Le istanze del cattivo hanno quasi senso. Quindi, se punire i cattivi diventa l'obiettivo del cattivo per eccellenza, il messaggio è dentro di noi c'è sia del buono che del cattivo, e quindi siamo un misto di entrambi. Non si possono dividere le persone in buone o cattive. Chiaramente la strega è puramente malvagia, quindi c'è ancora spazio per il cattivo per eccellenza. E per coloro che amano la tradizione, laddove il bene e il male erano molto ben separati, questa sarà una chicca confortante, un ritorno alla tradizione. Ma per tutto il resto dell'umanità, vale il concetto che, c'è del bene e del male in ognuno di noi. E non tutti meritiamo una punizione, o sicuramente non meritiamo di fare una brutta fine, magari per aver detto una bugia. Tutti possiamo migliorare, e cambiare. Questo è il messaggio che io vedo in questo film, e mi piace molto. C'è un altro aspetto che mi ha colpito molto di questo film. Ed è proprio quello che poi alla fine del film mi ha fatto piangere. The Rock e Babbo Natale, sono in grado di vedere il bambino che è in noi. Questa è un'immagine molto commovente per me. È una capacità davvero importante quando si ha a che fare con degli altri esseri umani. Non importa in che ambiente siamo, cosa stiamo facendo, è davvero molto importante, quando si parla con qualcuno, immaginarsi quella persona come il bambino o la bambina che erano, o un ragazzo o una ragazza. Per esempio, quando io lavoro negli ospizi, ed ho a che fare con gli anziani, per me è molto importante immaginarmeli da giovani. Guardo un vecchio signore, e me lo immagino ai tante, forte, più forte di me. Guardo una signora anziana, e cerco di immaginarmela da giovane, molto bella. Magari mi aiuto con le foto che trovo nella loro stanza, e questo mi aiuta moltissimo ad entrare in empatia con loro. Perché vederli semplicemente per quello che sono in quel momento, delle persone anziane, piene di acciacchi, rischia di minimizzarle, rischia di compromettere una visione completa che dovremmo avere della loro persona. Se sei in grado di vedere i giovani o i bambini in loro, come nel film, si può entrare in una più perfetta empatia con loro. Facendo così, ci si può meglio immedesimarsi in loro, nel disagio che vivono a trovarsi in un corpo che non funziona più e che non è più bello, e questo è un punto. Ma serve anche a dar loro la dignità che meritano. Un tempo questo vecchietto mi avrebbe messo al tappeto. In una discoteca, questo signore avrebbe attirato l'attenzione delle ragazze molto più di me. Ed ora è qui, ha bisogno di aiuto per andare al bagno, per mangiare. Ricordati chi è, mi dico. Chi è stato, rispettalo. Amalo, proteggilo. Una volta era un bambino, una bambina, dolci dolci come tuo figlio. Sono stati anche loro figli di una mamma ed un papà. Non mi ricordo da chi l'ho sentito, ma qualcuno disse, parlando dei tossicodipendenti, anche loro hanno una mamma che sta in pensiero per loro. Anche loro, un tempo, sono stati dei bimbi adorabili. Questo ci aiuta ad entrare in empatia con loro, a non giudicarli solamente per la condizione in cui vivono momentaneamente. Quando vedi una persona, seduta sul marciapiede, istintivamente è normale provare una repulsione, ma dobbiamo avere la capacità di vedere in loro i bambini che erano e che sono ancora. Spero che queste mie riflessioni vi piacciano. E se sì, siate gentili. Mettete un like a questo video ed iscrivetevi al mio canale. Questo aiuterà l'algoritmo di YouTube a capire che il video ha valore e verrà proposto ad altre persone. Oltre al fatto che mi fa piacere avere qualche like e qualche nuovo iscritto. Scrivete anche nei commenti cosa ne pensate del film e cosa ne pensate delle mie riflessioni. Ma andiamo avanti, il video non è finito. Gli effetti speciali sono molto buoni ed ho apprezzato moltissimo il fatto che il fratello di Babbo Natale e i suoi compagni sembrano molto realistici. Sembra quasi che gli attori stiano indossando delle maschere, piuttosto che essere fatti in CGI. E questo è molto positivo. L'idea di trasformare dei giocattoli in strumenti utili alla riuscita della missione mi è sembrata un'ottima idea. Per farmi capire meglio, mi riferisco a quando The Rock usa la macchinina della Hot Wheels e la trasforma in una macchina reale, che i due useranno. Mi sembra una trovata geniale. Babbo Natale è interpretato da un attore eccezionale, Jonathan Kimball Simmons. Le sue migliori interpretazioni che mi vengono in mente ora sono il suo ruolo nel padre di Juno e il proprietario della ditta farmaceutica nella serie televisiva. Goliath Ma ha fatto una marea di film, per cui, ripeto, queste due parti sono solamente le parti che associo io alla sua persona. Quelle che mi ricordo e che porto nel cuore. Ma ripeto, chissà quanti altri film ha fatto. Tornando alla sua figura di Babbo Natale, è un Babbo Natale molto speciale, molto smart, atletico, per la sua età. E complimenti all'attore per questo. Ed è anche molto simpatico. Poi c'è il tema del papà e del figlio. Il papà che ha paura di stare a contatto con il proprio figlio perché teme di fargli del male, con tutti i suoi difetti. E il figlio, che gli ricorda che la cosa più importante per lui non sono i regali, ma stargli a fianco. Lui vuole il suo papà, il suo vero papà, al suo fianco. Questo è un messaggio molto bello. Lavorare è importante, ma dobbiamo ricordarci che se vogliamo essere delle brave persone, dei buoni padri o delle buone madri, la cosa più importante è stare con i nostri figli, letteralmente spendere del tempo con loro, giocare con loro, costruire memorie assieme. Voi cosa ne pensate di questo film? Scrivetelo nei commenti ed ancora una volta vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale e a condividere il video. Grazie e Buon Natale!